Ciao a tutti sono Loli di Argentina. Cosa ha ripresentato Parco nel mondo per me? Per me Parco Appennino nel mondo è stata un'esperienza unica che mi ha dato l'opportunità di visitare l'Italia per la prima volta e viaggiare per tutti quei piccoli paesi che c'è il Parco e assaggiare tutti i cibi e la cosa più importante per me è di rincontrarmi con i cugini della mia nonna che io non li conoscevi e dopo il programma mi sono andata a vederli e loro sono dell'Emilia Romagna e è stato incredibile per me perché ho imparato l'italiano un po' e anche abbiamo avuto una connessione unica e loro sono come i miei nonni ora e ancora abbiamo delle chiamate e le lettere loro sanno tutto di me e io di loro e penso che è stato importante perché anche per la mia nonna che lei è figlia di italiani però non parla di italiano per lei è stato importante che io ho fatto con me questa connessione e ora loro hanno una connessione migliore spero che si spiega e sì per me è stato non so penso che ha cambiato la mia vita ora 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 ho visto in canada però sempre me ne penso di andare in Italia e magari abitare lì per alcuni anni con il mio marito e il mio figlio è un sogno che ho che magari chissà e anche ho conosciuto delle belle persone d'Italia del parco e Francesco e la Carla e la Martina che con la Martina siamo amiche e ho andato a visitarla due volte dopo il programma che ho fatto nel 2011 io e ho andato due volte perché è bellissimo lì e mi piace un sacco devo fare un po' più rapido l'ultima l'ultima consigna del meeting sì parteciperò del meeting penso che sia una fantastica idea di fare un altro meeting perché mi piacerebbe sapere cosa cosa nuova sia fatta e che cosa posso fare per aiutare se c'è bisogno di un nuovo progetto e sì sarò lì ciao a presto